In questi giorni si discute del problema legato all'anticipazione del 20% sui contributi della ricostruzione privata che per alcuni potrebbe portare a un serio rischio di stop dei lavori. Dal 1 luglio è entrata in vigore il nuovo codice degli appalti che abroga il codice dei contratti il quale prevedeva le anticipazioni per i lavori pubblici. La legge 125 però lega le anticipazioni della ricostruzione privata all'anticipazione dei lavori pubblici. Per il titolare dell'ufficio speciale ricostruzione del comune dell'Aquila sono solo interpretazioni e non c'è nessun rischio perché l'anticipazione rimane. È abbastanza evidente che il nuovo codice degli appalti mantiene la disciplina delle anticipazioni, anzi la percentuale dei lavori che possono essere anticipati è del 30%. Pertanto in continuità con il fatto che il nuovo codice prevede le anticipazioni anche per la ricostruzione privata si possono continuare a dare le anticipazioni che era una soluzione assolutamente virtuosa e consentiva di avviare i cantieri in maniera ancora più rapida. Anche perché il fatto che il nuovo codice degli appalti abbroga il codice dei contratti che è quella a cui si faceva riferimento per le anticipazioni a mio avviso non è un grande problema perché appunto il codice va nella direzione, il nuovo codice va nella direzione delle anticipazioni per cui non si vede per quale motivo noi non possiamo più garantire le anticipazioni. L'anticipazione del 20% era un meccanismo premiale che era in vigore dal febbraio del 2017 che ha consentito di avere liquidità immediata nella ricostruzione dei territori colpiti dal sisma. A lanciare l'allarme era stato anche il consigliere comunale Paolo Romano che aveva chiesto al comune di prendere posizione. La ricostruzione privata sta vivendo, contrariamente al passato inoltre, una buona stagione secondo Provenzano. Il codice degli appalti prevede le anticipazioni. Siccome è un meccanismo virtuoso e siccome noi possiamo mutuare serenamente quello che prevede il nuovo codice degli appalti sicuramente anche per la ricostruzione privata questo problema non c'è. Diverso fosse stato il caso se avessero abrogato le anticipazioni. Quello sarebbe stato un problema ma siccome il codice va nella direzione di confermare le anticipazioni io non vedo alcun problema. Anzi mi permetto di dire che finalmente siamo ripartiti con la ricostruzione privata perché gli ultimi dati sono molto confortanti. Noi avevamo una carenza di pratiche da distruire. Negli ultimi mesi sono arrivati quasi 140 pratiche mentre l'anno scorso sono arrivati meno della metà. In tre mesi è arrivato il doppio di quello che è arrivato tutto l'anno scorso. Per cui io direi continuiamo con estrema lena nel cercare di chiudere questa ricostruzione perché è necessario chiuderla.